Jason Dopo la battaglia sul Monte Diablo, Jason non credeva di potersi sentire più impaurito o devastato di come si era sentito allora. Ma lì, nella casa del lupo, era successo. Sua sorella giaceva congelata ai suoi piedi. Lui era circondato da mostri. Aveva rotto la spada d'oro e l'aveva sostituita con un pezzo di legno. Gli erano rimasti all'incirca cinque minuti prima che il re dei giganti saltasse fuori e li distruggesse. Si era già giocato la carta migliore, invocando la folgore di Zeus mentre combatteva contro Encelado e dubitava di avere la forza o la collaborazione dall'alto per farlo ancora. Ciò significava che le sue uniche risorse erano una vecchia dea piagnucolosa imprigionata in una gabbia, una quasi fidanzata armata di pugnale, e Leo, che evidentemente pensava di poter sconfiggere gli eserciti dell'oscurità a colpi di mentine. Come se tutto questo non bastasse, gli stavano riaffiorando alla mente i ricordi più brutti. Era sicuro di aver compiuto molte azioni pericolose in vita sua, ma non era mai stato così vicino alla morte come in quel momento. La nemica era bella. Chione sorrise, con gli occhi castani che scintillavano, mentre un pugnale di ghiaccio le spuntava in mano. «E cosa hai fatto?» domandò Jason. «Oh, tantissime cose!» rispose la dea della neve, compiaciuta. «Tua sorella non è morta, se è questo che intendi. Lei e le sue cacciatrici saranno balocchi perfetti per i nostri lupi. pensavo di scongelarle una alla volta e di cacciarle per divertimento. Che una volta tanto siano loro le prede!» I lupi ringhierono il segno di apprezzamento. «Sì, miei cari!» Chione teneva gli occhi puntati su Jason. «Per poco tua sorella non ha ucciso il loro re!» Licaone è fuggito in una grotta chissà dove, sicuramente a leccarsi le ferite, ma i suoi servi si sono uniti a noi per vendicare il padrone. «E ben presto Porfirio sorgerà e noi governeremo il mondo!» «Traditrice!» gridò Hera. «Intrigante che non sei altro, dea di serie B! Non sei degna di mescermi il vino? Figuriamoci di governare il mondo!» Chione sospirò. «Sei noiosa come sempre, regina Hera. È da millenni che voglio tapparti la bocca!» Agitò una mano e il ghiaccio rivestì la gabbia di Hera, sigillando gli spazi tra i tentacoli di terra. «Così va meglio!» Commentò la dea della neve. «Ora, semi-dei, a proposito della vostra morte!» «Sei stata tu a ingannare Hera tirandola qui!» Le disse Jason. «Sei stata tu a dare a Zeus l'idea di chiudere l'Olimpo!» I lupi ringhiarono e gli spiriti della tempesta nitrirono, pronti ad attaccare. Macchione sollevò una mano. «Abbiate pazienza, miei cari! Se vuole parlare, che problema c'è? Il sole sta tramontando e il tempo è dalla nostra!» La dea annuì. «Certo, Jason Grace. La mia voce è pacata, gentile e gelida come la neve. Per me è facile sussurrare parole convincenti agli altri dèi, soprattutto quando mi limito a confermare i loro più profondi timori. Sono stata io a bisbigliare anche all'orecchio di Eolo per indurlo a spiccare l'ordine di uccidere i semi-dei. È un piccolo omaggio per Gea, ma sono sicura che sarò ricompensata quando i suoi figli, i giganti, prenderanno il potere. «Avresti potuto ucciderci in Quebec», disse Jason. «Perché ci hai lasciato vivere?» Chione arricciò il naso. «Una faccenda complicata uccidervi a casa di mio padre, soprattutto visto che lui si ostina a incontrare tutti i visitatori. Ci ho provato però, ricordi? Sarebbe stato bello trasformarvi in ghiaccio se lui fosse stato d'accordo. Ma dal momento che vi aveva garantito un passaggio sicuro, non potevo disobbedirgli apertamente. Mio padre è un vecchio sciocco, vive nel timore di Zeus e di Eolo, ma è ancora potente. Ben presto, quando i miei nuovi padroni si saranno svegliati, deporrò Borea e prenderò il trono del vento del nord. Ma non è ancora il momento. E poi mio padre non aveva tutti i torti. La vostra era una missione suicida. Ho sempre pensato che avreste fallito. «E per accelerare le cose hai messo fuori combattimento il nostro drago nel cielo sopra Detroit», disse Leo. «Quei fili gelati sulla sua testa. È stata colpa tua! La pagherai!» «E sei stata sempre tu a informare Encerado sulle nostre mosse», aggiunse Piper. «Le tempeste di neve ci hanno perseguitato per tutto il viaggio. Mi sento così vicino a tutti voi adesso», esclamò la Dea della Neve. «Quando vi siete lasciati Omaha alle spalle, ho deciso di chiedere a Licaone di rintracciarvi, in modo che Jason potesse morire qui, alla casa del lupo!» Chione sorrise. «Vedi, Jason, il tuo sangue è versato su questo sacro suolo. Lo contaminerà per generazioni. I tuoi fratelli semidei si sentiranno oltraggiati, soprattutto quando troveranno i corpi di questi due del campo mezzo sangue. Penseranno che i greci abbiano cospirato con i giganti. Sarà una delizia!» Piper e Leo sembravano non capire cosa stesse dicendo. «Jason, però, sì. Gli stavano riaffiorando ricordi a sufficienza per capire quanto potesse essere pericolosamente efficace il piano di Chione. Aizzerà i semidei gli uni contro gli altri! È così semplice! Come ho già detto, mi limito a incoraggiare quello che voi fareste in ogni caso! «Ma perché?» Piper allargò le mani. «Così distruggerai il mondo! I giganti distruggeranno tutto! Non credo che tu lo voglia davvero! Richiama i tuoi mostri!» Chione esitò, poi rise «I tuoi poteri di persuasione stanno migliorando, ragazzina! Ma io sono una dea! Non puoi usare la lingua ammagliatrice con me! Noi divinità del vento siamo creature del caos! Spodesterò Eolo e lascerò le tempeste libere di scorrazzare! Se distruggeremo il mondo dei mortali, tanto meglio! Non mi hanno mai venerato, neppure all'epoca dell'antica Grecia! Gli umani e tutti i loro discorsi sul riscaldamento globale! Bah! Gli farò passare i bollori in un attimo! Quando occuperemo di nuovo i luoghi antichi, ricoprirò di neve l'acropoli di Atene! I luoghi antichi? Leo sgranò gli occhi! Ecco cosa intendeva dire Encelado quando parlava di distruggere gli dèi alle radici! Intendeva la Grecia! Potresti unirti a me, figlio di Efesto, suggerì Chione! So che mi trovi bella! Per il mio piano basterebbe che morissero loro due! Rifiuta il ridicolo destino che le parche ti hanno assegnato! Salvati e diventa il mio paladino! Le tue abilità ci sarebbero molto utili! Leo rimase allibito! Lanciò un'occhiata dietro di sé, nel caso Chione stesse parlando con qualcun altro! Per un attimo, Jason si preoccupò! Di sicuro all'amico non capitava tutti i giorni che una splendida dea gli facesse una proposta simile! Ma poi il figlio di Efesto si piegò in due dalle risate! Sì, certo! Mi unisco a te! Finché non ti scocci di me e decidi di trasformarmi in un ghiacciolo vivente? Bellezza! Nessuno può conciare per le feste il mio drago e farla franca! Non riesco a credere di essermi scaldato tanto per te! Scaldarsi per me? Come osi insultarmi? Io sono fredda, Leo Valdes! Molto, molto fredda! Chione lanciò una raffica di gerido nevischio contro i semidei, ma Leo sollevò una mano! Un muro di fuoco crepitante si sprigionò davanti a loro, dissolvendo la neve in una nube di vapore! Il figlio di Efesto sorrise Vedi, bellezza? È quello che succede alla neve in Texas! Si scioglie che è una meraviglia! Ora basta! Sibilò Chione Hera si sta indebolendo! Porfirio sta sorgendo! Si rivolse ai mostri Uccidete i semidei! Che siano il primo pasto del nostro re! Jason brandì la sua asse di legno ghiacciato Un'arma stupida con cui morire in battaglia E i mostri si lanciarono all'attacco!